Hello a tutti Slayers e benvenuti su questo nuovo video di Slay21, oggi ci troviamo finalmente su Brawl Stars dopo tantissimo tempo che non registro ragazzi e ho deciso di continuare con un po di Brawl Stars poi varierò anche con altri tipi di giochi. Nel frattempo partiamo con le nostre tre partite di sette di power e poi magari ci facciamo qualche altra partita. Il torneo come potete vedere l'ho perso, sono veramente deluso, 9 vittorie su 12, c'ero quasi, me ne mancavano 3, purtroppo non ce l'ho fatta ragazzi però va bene così e partiamo subito con il nostro foot brawl. Allora, bene 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 occhio allora gli avversari non sono esageratamente tosti anzi sono battibili si può dire allora il mortici io lo posso allontanare bene bene almeno gli ho allontanati bene 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 fase difensiva ottima un po di attacco ci servirebbe comunque. Allora qui piazziamo un trampolino così e questa parte invece andiamo sul pressing bene nooo mi sono autofregato ragazzi autofregato no veramente allora piazziamolo di qua no 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 occhio occhio spazzala bro non ci credo ragazzi che sconfitta del cacchio che sconfitta del cacchio veramente che sconfitta del cacchio bene 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 andiamo su jacy ragazzi andiamo sul sicuro ovviamente non la faccio con la stessa diciamo con lo stesso impegno delle altre volte perché qui ho iniziato malissimo ho perso ben due giornate perché ho iniziato in ritardo me ne ero dimenticato e quindi ho perso un paio di giornate diciamo sa anche più di due raga bene i colpi li sto tirando non possiamo lamentarci allora grandissima torretta ci ho provato ci ho provato ci ho provato ci ho provato allora le difficoltà le difficoltà sono il mortis l'ottobit vabbè tanto quanto però anzi vi dico che mortis può essere facilmente sconfitta eh quale sono le difficoltà sti maledetti nooo proprio adesso lo devo fare la cagata raga ho sbagliato no e 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 no no mamma mia ragazzi che sedere che sedere no devo piazzare qualcosa qui davanti adesso vabbè lasciamo questa torretta qui ecco non mi era accorto che avevamo un gelindo come compagno allora qui dobbiamo qui 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 vai così così vado di torretta boom 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 no 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 me l'hanno tirata giù raga sorry scusami scusami eh vabbè se ci spiazzano adesso raga siamo fregati siamo veramente fregati vado di torretta qui raga vado sul sicuro boom boom no boom perfetto occhio a Luisa allarga Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo ho sbagliato ho fatto una cazzata occhio vado di torretta anche qui piazza così boom colpo sicuro nooo mamma mia non so come non l'abbia presa quel mortis ragazzi finalmente una vittoria finalmente una vittoria finalmente una vittoria finalmente una vittoria un'altra con jesse ma si non mi ha deluso per adesso jesse sia in difesa che in attacco l'ho trovata buona soprattutto in difesa dove c'è la torretta diciamo che ha ecco problemi c'è ems qual è il problema c'è ems per risolvere i problemi ok bello qual è il tuo problema c'è ems con noi vai torretta vai torretta vai torretta vai torretta vai torretta Grandissima Bene Mamma mia ragazzi La torretta Con 56 di vita Ho fatto un devasto Ho tirato giù Due avversari Ve l'ho detto Non delude mai La torretta Boom E la piazziamo qui Così Ancora La torretta Ecco Me l'hanno tirata giù Però va benissimo Va molto bene Pressiamo Abbiamo un tank Che nei momenti di difficoltà Può creare grande devasto Boom Ecco Grandissimo energetic Tra l'altro Non me l'aspettavo In questa mappa Come un top Però veramente Sta facendo La sua partita No No veramente raga Non me l'aspettavo No 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 Se ci piglia tutti e tre Raga Siamo fregati Siamo fregati No Tre colpi Grandissimi raga Grandissimi Grandissimi energetici Io piazzo la torretta Qui davanti Boom Così E andiamo sulla difensiva No No E' che ho preso la palla Raga Li avrei tirati giù Sarebbe stato Sarebbe stato veramente Moltissimo peso in meno Cioè dai Adesso mi spazzo la torretta Se non sbaglio Grandissima torretta Grandissima torretta Sono state vittorie per 1 a 0 Però sono state vittorie lottate Veramente lottate Nel frattempo Qui noto delle mappe Mappe fighissime Ma aspetta che le proviamo subito Aspetta Aspettate eh raga C'ho uno starnuto Ma non lo faccio Vabbè Allora Che usare in rapina Hey boys Andiamo su pegni No scusate Rapina Z Pegni Vai Pegni wise Pegni wise Pegni wise Perché c'ho già una tattica Se rimango in difesa Piazzo la mia torretta in attacco Ci facciamo una fortuna raga Aspettate Loro perché non attaccano? Qualcosa mi dice Occhio Restano in difesa Scusate raga Ora la devo fare questa Arriva un altro Maledetta Vai Frank Noi difendiamo qui Aspettate Ho un'altra tecnica Hanno tutti la ulti Maledetti Bene Ho la torretta raga Se la piazzo a metà strada Riesco a sconfiggerli Eh mi spiace per te bella Allora Torretta Torretta Veramente tattica Veramente tattica Ma Più tattico di così? Hm? Che ne dici eh? Hm? Male ti fa A sapere che ci sono io Qui Ad attaccare Nooo Ce l'hanno tirata giù Ce l'ho quasi Non Non mi dispiace Sinceramente Ad usare La nostra amichetta E quindi Ne faccio altre due E niente E la chiudiamo qui ragazzi Per oggi Dire di sì dai Allora Non mi dispiace Neanche a provare L'attacco Perché se colpisco Tutti e tre Loro Ecco Non ho sfiorato Neanche Bah Neanche loro Sicuramente hanno colpito Mi sa Ecco No Piazzo così Vai Vai torretta Attic Te ne vuoi Anna? Vinta 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 Vintissima GG Grandissimo Io Con la torretta Bene Ha un raggio Molto ampio Quindi la fortuna Di Pegni È proprio questa Infatti Non ho visto Chi mi stava invitando Vabbè Partiamo L'ultima ragazzi E chiudiamo qui dai Purtroppo Missioni Oggi Zero Zero Non ce ne sono Delle Non ci sono Diciamo Quelle missioni Eccezionali Ecco Arrivano gli avversari I primi avversari Oh Ah Scassato Eh Grandissimo Mamma mia Aspettate raga Forse ce l'ho Boom E si va di tattico GG Schiacciante Immediata Schiacciante L'avevamo fatta Pezzi raga Veramente Questo team Mi è piaciuto E quindi Siccome siamo ancora In tempo Perché è stata una partita Veramente veloce Io un'altra me la tiro Non fraintendete Non fraintendete mai Qui insieme a andare Già sul pari Vediamo Bene Peni 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 in arrivo raga Eh che cacchio E che cacchio Li hai fatto ricaricare La ulti Non ci credo No 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 Uh Maledetti guardateli Seduti lì Mannaggia Raga oh Aia Li ho colpiti Non ho difeso Alla grande Però li abbiamo colpiti Raga Che deficiente Raga No Non li avevo visti Va bene Non succede niente Perfetto così ragazzi Bene Siamo ai saluti Mi raccomando ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Come sempre Ho visto che stanno facendo Sempre un buon tot Di visuali video Sotto i 30 Non scendono Mi raccomando Continuate così Like Commento E noi Come sempre Ci becchiamo La prossima volta Ma mi raccomando ragazzi Fate girare Questo canale Ciao ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti